Prende il via da qui, la vasta area a cantiere per la variante centro storico della tranvia all'intersezione di via Micheli, via Salvestrina e via Cavour. Interventi che modificheranno per sempre una parte centrale della viabilità di Firenze negli ultimi giorni di ottobre. Le transenne sono arrivate in via Cavour. Il maggior disagio non riguarda tanto il traffico quanto la perdita di posti per la sosta delle auto. Le opere serviranno per il rifacimento dei sottoservizi e poi per la realizzazione dell'area tramviaria, quindi la posa dei binari. Piazza San Marco, lo storico snodo degli autobus nel centro di Firenze, si trova all'interno di lavori di totale rivoluzione e ristrutturazione con il manto stradale che è appena stato rifatto. Un intervento realizzato dal lato della Basilica. Qui davanti ci sono altre chiusure che non consentono la sosta dei mezzi, ma soltanto il transito in una singola corsia. Ma lo stravolgimento maggiore riguarda la parte opposta della piazza, che non era mai stata modificata. Bar, negozi e i locali adesso si affacciano sui blocchi di pietra corredati da ringhiere in ferro che delimitano l'area cantiere. La fermata degli autobus è slittata di alcuni metri in via Lapira, nel frattempo diventata a doppio senso di marcia. Parallelamente proseguono anche i lavori in Piazza della Libertà, dove è stato modificato il progetto per realizzare la nuova fognatura per via di un'interferenza con altri sottoservizi. Verrà modificato il cantiere con una riduzione dell'area occupata nella piazza dal lato parterre e la riapertura di via Madonna della Tosse ancora pochi giorni e in quest'area saranno realizzati gli stalli per la sosta.